bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e siamo qui su wwe 2 case 22 signori siamo tornati siamo no tornati non l'ho mai portato che cazzo la dici maullo siamo qui su un gioco di wrestling per la prima volta sul canale io sono un grande appassionato di wrestling ci sono cresciuto ai tempi di smackdown quando c'erano cortengo l'andertagal john cena eddie guerrero chris benoit chi più ne ha più ne mette signori e ora è giunto il momento di portare anche questa serie sul canale è possibile fare due tipi di serie signori sia la serie general manager in cui noi saremo a comando di uno degli show principali ovvero raw o smackdown o nxt oppure la mia scesa ovvero ci creiamo il nostro personaggio e seguiremo la storia fino a diventare i più forti del mondo perché noi lo saremo signori cos'è il discorso inizieremo oggi la mia ascesa in quanto voglio creare personaggio inizia la storia e poi iniziare la carriera general manager e vedere se riesco a tirarmi il mio personaggio nella nel in uno dei roster che andremo ad iniziare a gestire quindi non perdiamo altro tempo e partiamo con lambaradam cc cocco tre civette sul comò ok scegliamo lo slot divisione maschile signori perfetto questa è la presentazione che ci sta ci sta va bene va bene mi sono fatto le scatole bella bella andiamo avanti si salta mi fa saltare noi andremo a creare signor il nostro personaggio però creeremo ma ullo signori creeremo ma ullo il re del della wwe ovvero lui vincerà tutto che cos'è questo papa ma ullo andremo a creare papa ma ullo mi è venuta adesso l'ispirazione di ieri papa ma ullo papa ma ullo mi piace dove riuscirò mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace un papa ma ullo che dopo aver abbandonato la formula 1 chi è questa bella bionda sono in l'anticio di un'ora e mezza bella bionda parliamone parliamone siamo siamo fatta entrare dalla porta un po sudaticcio che schifo lui o toad si pensi veramente anticipato ma povero toad non ha fatto niente mi ha aperto solo la porta difende la detta sicurezza in colpa la te incolpiamo noi siamo siamo degli stronzi si dai così spariamo a zero già sull'addetto vai che lo picchiamo e facciamo colpo sulla bionda ehi bella bionda ci sorride agli occhi è un poco storico dimmi tutto c'è anche il tono di telefono bella bionda no non c'è certo non esempio profilo ma che vuole questa da che cosa carina sicuramente certo certo momento ma stai filmando tutta mamma mia signori pensavo stessi indicando me ha detto che cazzo lei guarda a me che cosa è successo troppo strana come cosa invece no se la sta pigliando con toad ok ci ha detto di spegnere la telecamera va bene signori andiamo a creare il nostro papa maullo se c'è fosse l'abbigliamento scegli le tue origini mma dopo inizialmente carriera per il brutale mondo del mma e senti di poterla cavare in qualsiasi no la tua carriera è più altissima del football universitario sì così mi piace neanche li ho guardati gli altri è diretto così e chi cazzo sei giochi tanti poveri allora cruiser light everywhere every witch ok heavy witch ok super heavy rich super heavy rich no dai dai sei sei un panzone non è super heavy rich è questo qua questo 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 così lo voglio sagomato picchiatore tecnico ok gran saltatore no non ce lo vedo proprio maullo che salta possente possente se hai mangiato la tua mamma la tua famiglia e tutta la tua settima generazione dai tecnico tecnico picchiatore mi sembra che forse il picchiatore più equilibrato sì 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 vai 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 vamos vamos personaggi allora quindi possiamo scegliere una base di personaggio sul quale già poter andare a lavorare però 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 se dobbiamo creare papa maullo signori io qui diciamo che una spulciata già l'ho data e non c'è granché e non c'è granché un vestito da papa c'è un qualcosa sul quale si può lavorare un vestito da papa con la quale delle basi no non c'è un cazzarola signori potremmo prendere questo farlo tutto bianco ma non mi piace io si sto parlando da solo signori io guardo però potremmo aspetta l'illuminazione signori illuminazione questo deciso questo si voglio questo signori questo da papa si questo è proprio da papa vai così voi direte ma cosa stai dicendo sì questo è da papa signori alla cancelliamo tutte cose andiamo a scrivere papa dove sta la papa perfetto il ritorno di papa maullo in una nuova disciplina papa bassa maullo perfetto bella così potete dire questo nome potete beviato nell'entrata sui social si papa maullo papa maullo chiocciolina mamma chiocciolina papa maullo è bellissimo come si torna indietro come come cazzo lo torna indietro cancela no non voglio cancela voglio tornare indietro mi fai tornare indietro non mi fa così mezz'ora a capire come si torna indietro così perfetto paolo maullo nome presentazione nome presentazione sovrannome superstars no 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 non c'è qualcosa come page palestini parola come me la papa pat 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 risa plate san paul pain per san pek pedro perfetto di super star va bene nome 1 cognome no niente va bene lasciamo dei superstars va bene provenienza a caso signori così quello che capita capita quello che capita 3 2 1 stop islanda va bene Popo Maullo viene dall'Islanda Così ci sta Ogni tanto da Reich Jakvik Così mi piace Così Variamo Variamo Le situazioni signori Allora Popo Maullo Popo Maullo Popo Maullo C'è sta faccia da cinesino Che non mi piace per niente Quindi questa già È una cosa che dobbiamo andare a cambiare subito Viso Modello viso Ok Siamo diventati pelati di improvviso Allora Modello viso Sta faccia Modello viso Sta faccia da cinesino Questa è da porcellino Che sa che mi fa troppo ridere Vediamo Aspettate Dobbiamo trovarne una Mamma mia che incazzoso questo Una normale c'è Ecco dai Questa è simpatica Dai Questa va bene Parti del viso Le formazioni Questa foto Parti del viso Che vuol dire Colore pelle Va bene Denti Va bene Imperfezioni Potremmo levarci i denti Signori Imperfezioni Che vuol dire Ha le macchie No Non so proprio nulla Non ha macchie Non ha macchie Rughe no Poverino Ancora Ancora giovane Proprio mavolo Dai Deformazioni facciali Che vuol dire Deformazioni facciali Religione facciali No 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 Ce ne va a complicare troppo la vita Va bene così Va bene così Allora Ce la fa secondo voi A carica Ce la fa A carica Ok Siamo tornati Viso Corpo Corporatura Mi sembra che era buona Questa Sì Va bene Giudicato Colore pelle Va bene No Va bene questo Bene Predefinito No Troppo venoso Non mi piace So che si possono Mettere le vene In risalto Ma troppo venoso Poi esagerato Esagerato Sto video durerà un sacco Però va bene Tenuta 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 dal ring E entrata Allora L'entrata Noi abbiamo questo Dobbiamo andarlo a modificare Modifica tenuta Vediamo cosa ci fa fare Aspetto Capelli A partire Oh perfetto Capelli Andiamo a cercare un po' di capelli Ganzi Per il nostro papo mavolo Che entra nel mondo del wrestling E deve far colpo Signori Direi di far colpo così Se lo ricordano tutti Praticamente un po' di mavolo così Con le treccioline all'indietro No No Oddio ci sta Dai Un po' di mavolo che viene dall'islanda Così Mi sa di ganso Vediamo che altro c'è Qualcosa Qualcosa che colpisca Qualcosa Che uno dice Guarda No questa è la solita capigliatura Questa 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 No sembra che c'ha delle foglie in testa Questa Obrobriosa Questa c'è il parrucchino Con le trecciolone Spettacolo Papo mavolo con le trecciolone Da candy candy Questa che so Il ciuffetto rasta Questa canta Ma non è da papo mavolo Questa da 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 sciroccato Da persona che ha preso il vento solo da un lato Mamma mia Oddio Oddio Noi stiamo facendo un papa Signori Eh Attenzione Attenzione Noi stiamo facendo un papa Quindi effettivamente Questo Questo Non voglio dire cosa sembra questa cosa Lasciamo perdere Lasciamo perdere Questa Lasciamo perdere Anche cosa sembra questa cosa Direi questa signori Così Bello Stempiato Stempiato Ci sta Mi piace Mi piace Colore dei capelli Colore dei capelli Il nostro papo mavolo È giovane Ma è vecchio È un giovane vecchio Però se lo facciamo tutto bianco Non va bene Neri Neri Va bene Neri Ci stanno Colore dei capelli Neri Va bene Ha giudicato Ha giudicato Tinta e capelli Lucidità Modelli Rasatura No No Modelli rasatura Occhio Allora Modifica 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 Gli famo un occhio Verde Quale Lì sta cambiando Quello No Ma è bruttissimo Così li voglio Mamma che impressione No ma mi fa proprio troppo impressione Mi fa No 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 Lasciali l'occhio normale Per cortesia No 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 Va bene Va bene questo Va bene questo Sì 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 No che cosa gli ho messo Che occhio bruttissimo Che gli ho messo Aspettate Modifica Questo Colore No Colore 1 Colore 1 Me lo fai nero Nero No era marrone Era marrone 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 Ragazza lo sta in marrone Marrone Questo è marrone Non è marrone Questo Marrone Va bene così Va bene così Mamma mia che cosa brutta Che ho fatto signori Nero Me lo puoi fare nero Ok va bene così Mandorlato Un occhio mandorlato E un occhio no Va bene Non tocchiamo altro Perché non tocchiamo Va bene No quello Va bene così Lascialo così Va bene Accetta Perché Perché non mi prende Perché mi rimane Quest'occhio brutto Signori Perché mi rimane Quest'occhio brutto Perché mi rimane Quest'occhio brutto Aspettate Questo è più bello Oh mio dio Che schifo Un occhio normale Non c'è Non c'è Un occhio normale No Un occhio normale Non c'è Stiamo perdendo Mezz'ora di video Per fare Un occhio normale Va bene Colore Ti avevo detto Che il colore 1 Me lo dovevi fa Marrone Un nocciola Sì Così Purtroppo Sì Va bene così Colore 2 Me lo fai Nero Perfetto E va bene E colore 3 Niente Accetta Accetta Ok L'altro color L'altro occhio Lo dobbiamo Andare a copia Ok Va bene Non tocchiamo altro Signori C'ha gli occhi particolari Papa Maullo Che non ha Barba e baffi Oddio Un pizzettino Un pizzettino Non ci sta Ci starebbe Un pizzettino carino Questo Un pizzettino carino Signori Proprio da papa Ci sta Ci sta Colore Sì Colore 1 Nero Sì Mi piace Mi piace Mi piace Accetta Accetta tutto Perfetto Il nostro proprio maullo Prende forma Signori Barbi e baffi Barbi e baffi Sopracciglia Puoi mettere Sopracciglia normali Non chiedo tanto Un paio di sopracciglia normali Queste Ecco così C'ha degli occhi bruttissimi Signori C'ha degli occhi bruttissimi Colore Va bene Sopracciglia Ciglia Trucco Rossetto Cigliatrici fisse No Va bene così Va bene così Busto Busto Peli No Peli no 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 Peli no Va bene Va bene così Arti inferiori No Va bene Direi che ci siamo Abbigliamento No Aspetta 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 Colore party Ok Ok Tema Lo sciarpone E questo che è? Non si sa Allora Il tema Maglie Maglia non deve essere verde Ma deve essere bianca Signori Che papà Che papà siamo No? Bianca Perfetto E ci sta E questa è una Poi Colore collo Colore collo Modifica Bianco Scusami Che papà siamo Accessori Accessori collo La sciarpa Modifica La famo Rossa Signori Che ci sta Il resto delle bandane Lo famo Lo famo Lo famo Lo famo Lo famo Bianco Oppure lo potremmo fare Rosso viene tutta così Non mi ricordo come ce li hanno Così 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 Mi gusta Mi gusta Pantaloni Modifica Li famo Bianchi Che sta Fa? Non lo so Va bene Non so cosa Pantaloncini Ah no Ha cambiato i pantaloncini Ok Pantaloni Modifica Li famo Che sta Cazzo La stai facendo Modifica Mi devi fare Bianchi Perfetto Signori Guardatelo Il nostro papa Ci manca solamente La La coppola in testa E siamo a posto Ok Le scarpe Che Casaltro Colori ci sono Ehm Perché non vedo Non vedo Le scarpe No Le scarpe nere Le scarpe nere Diciamo Siamo dei papi Dei papi onesti Ok Ok Abbigliamento Testa Vediamo se riusciamo Copri i capi Vediamo se troviamo qualcosa Che si Di che cazzola Stiamo a parlare Ma un cappellino Normale Non c'è Un cappello Un copri capo Un cappello Sì La maschera da sub No Non ce lo vedo Un papa Che entra così Questa Peccato che c'è Ma Gli occhialini Perché sennò Era perfetta Mannaggia Mannaggia Occhialini Occhialini Non vanno bene Queste non si sa Cosa siano No 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 Questi sono proprio Copri i capi Non vanno bene Questi non vanno bene Signori Capi con cappuccio Capi con lo alto Ornamenti per la testa Vediamo Ornamenti per la testa Sì L'oreola Signori Ci starebbe Ma poi 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 leggermente troppo Poi leggermente troppo No 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 Non siamo qui Nella sessualità Sessione giusta Accessori Cappelli Bastava chiedere Cappelli Cappelli Mi serve un cappellino Normale Signora Qualcosa di Di Fino e tranquillo Di fino E tranquillo Questo Questo Ci starebbe Ma è troppo Sì Un papa che entra così Non ce lo vedo proprio Stanno a finire Stanno a finire Stanno a finire Stanno a finire Ma sono finiti Questo da cuoco Ci sta? Direi anche no Non sembra molto Molto un papa Signori Questo non sembra molto Un papa Però non abbiamo Grande scelta Come cappelli Quindi Assunto metterei questo Metterei questo Lo facciamo bianco E Chi se ne frega Il materiale colore Colore 1 Me lo fai bianco La papalina Tipo signore Ho sbagliato Scusatemi Questo me lo fai bianco E va bene così Accetta Perfetto Ok Io direi che la tenuta La tenuta da entrata Ci sta Signore Ce l'abbiamo La tenuta per l'entrata Ce l'abbiamo È venuta uno spettacolo La tenuta da ring Modifica tenuta No Aspetta No Ho sbagliato Tenuta da ring Copia tenuta Questa Anzi Io devo riscrivere questa tenuta No Guarda Devi far così E non è posso Sta a mezz'ora Copia tenuta Selezionato Ok Sì Schiaffamela là Perfetto Perfetto Entrata tenuta da ring No L'unica cosa che dobbiamo andare a fare Modifica tenuta Abbigliamento Testa Dobbiamo andare a levare questo Rimuovi Ok Accetta Busto Parti superiori Rimuovi Ok C'è anche una sciarpa da qualche parte Perfetto Rimuovi Ok signori Ce l'abbiamo Il nostro papo maullo È pronto a fare I peggio danni Signori Il nostro papo maullo Che lotto in pantaloni Da figone Proprio In pantaloni E scarpe Ci sta Signori Vi presento Il nuovo Papa maullo Io direi che per questo video Ci fermiamo qui Abbiamo creato il nostro bellissimo personaggio Poi io mi spulcerò un attimo le mosse Andrò avanti con calma Vedrò come procedere E noi ci vedremo Nel prossimo video Appena inizierà veramente la storia Detto questo signori Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per il like Per i contenuti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao